Un posto al sole Anticipazioni prossime puntate Cosa succede nelle prossime puntate di Un posto al sole in onda la settimana dal 3-7 ottobre 2022? Dopo aver compiuto 25 anni dal suo arrivo in Italia, i nuovi episodi di Upas proseguono tutti i giorni su Rai 3 con un appuntamento quotidiano, dal lunedì al venerdì, ma con un nuovo orario A partire infatto da lunedì 29, l'appuntamento con Upas prende il via dalle ore 20 e 50 circa Dopo quanto visto quindi negli episodi precedenti, nella settimana 3-7 ottobre 2022 di Un posto al sole sono previste le puntate 6036, 6037, 6038, 6039 e 6040 Ecco di seguito le anticipazioni della nuova settimana Un posto al sole Episodio 6036 lunedì 3 ottobre 2022 Nelle prossime puntate di Un posto al sole assistiamo al drammatico confronto tra Chiara, Alessandra Masi, e Nunzio, Vladimir Randazzo, dopo la loro permanenza a Capoverde, vista dal ragazzo come un grosso errore al quale mettere al più presto fine Ci avviciniamo poi a un'improvvisa decisione da parte di Lara Martinelli, Chiara Conti, mentre Renato, Marzio Onorato, è più carico che mai ad andare contro la questione della casa vacanza di Alberto, Maurizio Aiello Un posto al sole Episodio 6037 martedì 4 ottobre 2022 Giungiamo al fatidico giorno dell'udienza, quello in cui Nunzia non lascia un istante da sola a Chiara, spingendola così ad affrontare tutti i problemi dai quali è scappata Nel frattempo Renato, convinto più che mai ad ostacolare Alberto, mette in atto un piano infallibile per portare dalla sua parte l'incorruttibile Otello, Lucio Allocca Un posto al sole Episodio 6038 mercoledì 5 ottobre 2022 Scopriamo che Michaela, Gina Amarante, continua a guadagnare punti con Jimmy, Gennaro De Simone, promettendogli tutta la tranquillità e spensieratezza della quale il bambino avrebbe bisogno Nico, Luca Turco, nel frattempo, è sempre più arrabbiato e addolorato dalle possibili conseguenze che tutto ciò potrebbe avere Più tardi Chiara è sconvolta del tutto dall'esito dell'udienza, mentre Nunzio si sente sempre più in dovere di proteggerla, fino ad arrivare addirittura a farle una proposta davvero inaspettata Nel frattempo Viola, Ilina Lazarin, non è affatto pronta ad affrontare le conseguenze della fine del suo matrimonio Sono in arrivo per lei non pochi sensi di colpa Un posto al sole Episodio 6039 giovedì 6 ottobre 2022 Jimmy decide di aiutare suo padre, imbattendosi così in una persona davvero inaspettata Nel frattempo Speranza, Maria Sole Di Maio, decide di aprirsi con Mariella, Antonella Prisco, per raccontarle del carattere troppo remissivo di Samuel, Samuel Cavallo Così la zia le risponde prendendo ad esempio alcune similitudini con Guido, Germano Bellavia Peccato, tuttavia, che il diretto interessato le stia proprio ascoltando Un posto al sole Episodio 6040 venerdì 7 ottobre 2022 continua a crescere il mistero sulla figura di Lia, Giuliana Vigogna, la nuova domestica di casa Palladini Cresce anche l'interesse di Diego, Francesco Vitiello, nei suoi confronti, mentre Guido prova di tutto per riabilitarsi agli occhi della moglie Riuscirà a dimostrarle di saper essere anche un uomo combattivo?